Roma smarrirà la via maestra, seguirà l'antipapa, e si opporrà alla vera fede. Messaggio profetico della Madonna Vergine Madre, dato a Mario D'Ignazio. Il 15 aprile 2012. Nella luce del paradiso, vestita tutta di bianco, mi appare la Vergine Madre. La dolcezza del suo volto mi dona tanta pace. I suoi occhi esprimono premura, cura. È così paradisiaco vederla nello splendore della Trinità. Nostra Signora dice così. Salve mio diletto. Sono io, la Signora, la Madre, la Regina, Corredentrice di Cristo. Mediante questa mia apparizione a Brindisi, domando preghiera senza limiti, digiuni, penitenze, riparazione. A Brindisi viene portato a compimento il messaggio di Fatima. Nella visione che mostrai a Lucia, il terzo segreto di Fatima, mostrai la spietata persecuzione che si scatenerà. I falsi cristiani si armeranno di ipocrisia, e facendosi un falso vangelo, rigetteranno la tradizione e il magistero della Santa Chiesa, cercando di uccidere i veri cristiani, che vivranno nella grazia del Signore. Lucia parla anche di un vescovo vestito di bianco, distinguendolo dal Papa, che appare più avanti nel segreto. Tale rivoluzione sarà terribile. È già in atto, ma col passare del tempo, sarà più sanguinosa. Cercheranno di togliere il Papato e la Santa Eucarestia, perché la Chiesa satanica, animata dallo Spirito dell'Anticristo, non è in comunione con Dio, perciò vorrà eliminare la comunione. Coloro che fanno parte di questa falsa Chiesa massonica mondiale, sono già privati della comunione con Dio, servendo piani nefasti, contrari alla legge del Padre. Perciò ogni maledizione lanciata contro i miei appelli cadrà su di loro, e varrà per loro stessi. Cioè, entreranno loro stessi in scommunica automatica, e non varrà per i miei interventi, né per il piccolo greggio che mi seguirà. Comprendete allora che, l'aumento delle mie apparizioni, è una preparazione allo scontro, fra la falsa Chiesa e la vera Chiesa. Vi preparo alla battaglia, alla mia battaglia, contro la bestia e i dieci re dell'Anticristo, l'Unione Europea. Roma smarrirà la via maestra, seguirà l'Antipapa, e si opporrà alla vera fede cattolica. Mancheranno pastori santi, e lì dove li si forma, saranno formati secondo la setta nefasta e anticristiana, per creare fratture e diffondere nuove eresie. Nei seminari non si trasmetterà l'amore per il sacrificio e la povertà, ma l'amore per i piaceri e la mondanità. Nelle terre dove io giungo, saranno eletti i vescovi persone inique e votate a Satana, affinché distrugano quanto ho costruito, per raggiungere alti vertici nella Santa Casa, o Missis. L'umanità è molto, molto lontana dalla via della salvezza, ed erra come una cieca, cercando la felicità nelle cose materiali. Questa generazione è perversa, idolatra, sorda ai divini appelli. Sappiano i ministri di mio figlio Gesù che, se non si muoveranno in fretta ad annunciare il santo Vangelo dell'agnello immolato, la terra si ricoprirà di oscurità fittissima, e il demonio prenderà molti con sé. Le tenebre scenderanno per tre giorni e tre notti. Il sole non sarà più visibile. E sarà il castigo di Dio, che purificherà il mondo. Se il mondo continuerà a rinnegare la divinità di Gesù, e non lo riconoscerà quale unico salvatore, avverrà una grandissima guerra che coinvolgerà le nazioni. Sarà la terza guerra mondiale. Si scontreranno le nazioni senza Dio, perché Dio abbandonerà alla guerra i popoli che lo hanno rinnegato. Il sangue scorrerà ovunque. Non risparmieranno nemmeno le chiese di mio figlio. La strage sarà grande. Nuvole di denso fumo nero si eleveranno dal suolo, o tenebrando il cielo, che sarà come una fornace ardentissima, e l'aria diverrà irrespirabile. Dove si volgerà lo sguardo, si vedrà desolazione e morte. I morti saranno invidiati. Io, Madre Celeste, sto preparando i miei santi rifugi ovunque. Poiché, dove il mio santo piede sarà stato poggiato, nessun male giungerà. Sto ricostruendo già ciò che è caduto. I luoghi delle mie apparizioni saranno luminosi. E lì, si rifugieranno coloro che manterranno la virtù della fede. Nei luoghi delle mie visitazioni si manterrà accesa la vera devozione al mio immacolato cuore. E la vera fede in Dio. Nostro Signore è molto offeso. Nessuno offre riparazione a Cristo Dio. Molti di coloro che si professano cristiani, non camminano con Gesù. Molti di coloro che si professano cristiani, sono chiusi all'amore. Bimbo mio, sono molto addolorata nell'intimo del mio cuore di madre. Il mio cuore è coronato di pungenti spine, che solo le anime ostie possono estirpare. Richiamo il mondo alla conversione. Se ciò non avverrà, se i miei doni saranno ancora calpestati ed insultati, se tutto resterà come adesso, la terra sarà un gezzemani, e si avvereranno questi due castighi. I tre giorni di tenebra e la grande guerra. Dal testo, la via salvifica della riconciliazione. Edizioni Segno Grazie a tutti.